Grazie Presidente della Commissione Economica e Monetaria, l'Onorevole Tinagli. Grazie Presidente. Vent'anni, vent'anni è un anniversario importante per tutti, ma credo che se noi guardiamo al passato tutto quello che è stato in materia di euro, ci rendiamo conto di quanto speciale sia questo anniversario. L'introduzione dell'euro in Europa all'inizio sembrava una questione molto rischiosa, molti temevano che era troppo presto, altri temevano che ci fossero altre, ben altre priorità, c'erano preoccupazioni. Poi più tardi, dopo la crisi finanziaria, tanti avevano pensato che l'euro era a rischio e il ripristino delle valute nazionali era la prossima fase. Beh, le cose andate ben diversamente, non solo l'euro è ancora qua, ma è più forte che mai. Altri estetati membri hanno deciso di adottarlo e altri seguiranno la loro strada tra breve. In realtà l'euro è stato elemento chiave negli ultimi vent'anni dell'Unione, è venuto complemento del mercato interno, ha reso più facile fare commercio nei vari paesi, lavorare nei vari paesi, viaggiare, la catena di valore è stata rafforzata. È stato la condizione sine qua non per mantenere la sovranità europea in un mondo globalizzato. Ha rappresentato la base fondamentale per un'Europa pacifica, è un attore globale dopo la fine della guerra fredda e la rionificazione tedesca. Senza l'euro, sono certa, noi racconteremo una storia ben diversa, il successo dell'euro non è per caso. La sua forza, il suo valore e la stessa sua esistenza è stata garantita costantemente e mantenuta dalla BCE, dalla Banca Centrale Europea. E negli ultimi, in questi vent'anni, la BCE è stato il guardiano di questa moneta unica. E sono fiduciosa che continuerà a svolgere lo stesso ruolo anche nei prossimi anni, quando ci saranno grandi cambiamenti e innovazioni, abbiamo già sentito alcuni di questi. Il successo dell'euro è stato anche il risultato di una volontà politica forte. L'euro è stato l'investimento migliore che non avremmo mai potuto fare per creare un ambiente stabile per le nuove generazioni. Questa consapevolenza è stato l'elemento fondamentale che ci ha permesso di superare anche i momenti più difficili. Abbiamo sentito qualche minuto fa quali erano questi problemi. L'euro quindi ha riportato molti successi. Però dobbiamo anche riconoscere, e riconoscere davvero, che non ha realizzato tutti i successi che avrebbero potuto ottenere per i cittadini europei e per gli Stati membri. Questo è parte dovuto a certe questioni nazionali, in parte dovuto al fatto che l'Unione Economica e Monetaria è ancora incompleta, come ha detto giustamente il Commissario Gentiloni poco fa. Quindi noi in futuro dobbiamo identificare i cambiamenti necessari per far sì che la nostra Unione Monetaria possa funzionare meglio e vada a beneficio di tutti. L'esperienza dell'euro mostra che anche le cose più rischiose, se sono sostenute poi dalla volontà politica, possono fare passi avanti notevoli, passi notevoli per la nostra storia. Grazie.